Se sei un investitore condividerai con me che il mattone storicamente è sempre stato il miglior investimento ma in questo video quello che ti propongo è un immobile già affittato a studenti e ristrutturato che ti può garantire un 10% pulito anno. Buon video! Grazie a tutti! Grazie a tutti!